Equivoci battute, frizzanti, situazioni comiche tipiche della commedia napoletana, attori non professionisti, quelli della bottega dell'attore, ma ugualmente bravi, hanno messo in scena una piece molto briosa, organizzata dall'associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso nella chiesa di San Pietro a Campobasso. Una commedia del stile napoletano che fa ridere tre atti scritti dalla nostra amica, la dottoressa Giordano, con la direzione artistica del maestro Sacchetti. Molte le persone che hanno voluto partecipare alla replica della commedia, già rappresentata il 28 dicembre, nell'ambito degli eventi natalizi in città. Lo scopo dell'associazione è contribuire a promuovere la cultura non solo a Campobasso. Il 2013 siamo stati in giro per diversi comuni molisani, abbiamo portato il sorriso in alcune case di riposo, ospedali, eccetera. Questa compagnia è nata a Bottega dell'Attore, presso l'associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso, cinque anni fa, l'esperienza è stata bellissima, tanto che ci stiamo promettendo di ripetere quest'anno un giro itinerante il Molise. Noi l'aspirazione è quella di amalgamare, di far vivere i gruppi insieme e nell'associazione di cui ho l'onore di essere presidente facciamo 12 attività che permettono un grandissimo, enorme numero di persone di poter partecipare ai lavori che facciamo.